Dai Vale, inizio di me. No, 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 dai. Ma dai, dai. Dai, 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 ora il capello. Ma ti stanno benissimo, dai. Vabbè, dai, inizio io. Ciao, io sono Andrea, sono un travel blogger, però non sono uno di quelli che a un certo punto ha lasciato il lavoro e abbeduto a casa e ha iniziato a girare il mondo. No, no, la mia storia è un po' particolare. Sono stato licenziato da un istituto finanziario presso cui lavoravo e ho cercato di trasformare la mia passione per i viaggi in un lavoro. Io sono Valentina, sono una biologa nutrizionista e grande appassionata di viaggi. Quando non sono a studio a correggere l'alimentazione dei miei pazienti viaggio con Andrea e collaboro per il nostro blog VoloGratis.org Ah, e ovviamente sono anche la moglie di Andrea. Precisiamolo. Lui invece è Cassone, è il nostro Basset Town. È un Basset Town viaggiatore, quando possiamo ce lo portiamo con noi, quando viaggiamo in aero e lui ovviamente non può venire, rimane a casa con i nonni che lo adorano e lo trattano come se fosse un vero e proprio nipotino. Nel nostro blog VoloGratis.org raccontiamo le nostre esperienze in giro per il mondo attraverso diavi di viaggio, articoli di approfondimento, guide, ma anche foto e video. Ma in realtà ogni giorno scandaliamo il web in cerca di promozioni, codici sconto per viaggiare di più spendendo il meno possibile. Ah, e anche dei concorsi che devo dire danno grosse soddisfazioni ai nostri lettori. Io ho scritto anche un libro che si intitola Professione Travel Blogger e in vendita in tutte le principali librerie italiane e anche online, che è un vero e proprio manuale su come aprire un blog, su come gestire al meglio, su come gestire i social network e come valorizzarlo. A proposito di social network, se ti va di seguirci, noi siamo su tutti i canali social, siamo su Instagram come VoloGratis, su Facebook VoloGratis.org, su Twitter e su tutti gli altri canali, tra l'altro sono anche sul canale YouTube, giusto? Che altro dire? Ah, Vale, qual è il posto che più ti è piaciuto? Bella domanda! Direi Grand Canyon, Linfornia, Messico, Mauritius, Seychelles... Udilmente sì! Sì, udilmente sì! E a te? Quello in cui non sono ancora mai stato! Ti è piaciuta come risposta? Beh, originale! A proposito, dobbiamo pensare alla prossima meta! Dove vorresti andare? Ma io stavo pensando a Maldive, Polinesia, certo anche il Giappone, la Tailandia... Insomma, tutti i posti brutti, eh? Sì, tutti i posti brutti! Vedremo, vedremo! Speriamo! Ciao! Ciao! Gastone, saluta! Ciao! Saluta con queste tue orecchioni lunghe, lunghe!